Dove siamo? Siamo giovedì, è il giovedì che cosa c'è? C'è l'aperitivo a piedi nudi, Bare Food Aperitivo al Crucuris Resort, a Villa Simius, è un paradiso di resto, poi c'è. Tutti sono a piedi nudi, guarda, vieni con me. A questi no, non sono ancora accettati. Guarda, 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 la mia ora, guarda questo, vedi tutta questa processione di piedi nudi. Lucio Vittorio a 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 piedi nudi.